L'idea è di mettere un sistema di comunicazione wireless, probabilmente un'evoluzione del wifi all'interno di ogni automobile e utilizzare le macchine in vari modi. Quella più ovvia è dare internet ai loro occupanti, quella meno ovvia è che in questo modo le automobili diventano sostanzialmente dei sensori nella città e possono dare informazioni dallo stato del traffico allo stato dell'inquinamento. Ha altre informazioni, c'è solo la fantasia che può limitare che cosa può succedere in dieci anni da adesso. L'altra cosa importante secondo me è che la prima applicazione sarà addirittura alla sicurezza. Le si immagini che lì è nella nebbia sull'A4, visto che siamo in Italia, la macchina davanti a lei le dice guarda sono 35 metri davanti a te, quindi stai un po' attento. Ci sono delle applicazioni che vanno abbastanza avanti e che vanno well beyond quello che si riesce a fare adesso. Io mi occupo di sviluppare la tecnologia che si spera in futuro verrà poi utilizzata per fare questo tipo di applicazioni. Ho letto Bittorrent, perché una delle applicazioni è l'idea di condividere per esempio un filmato o una canzone tra un gruppo di amici che vanno presso una destinazione comune, un gruppo di amici che va in vacanza e la tecnologia che usiamo è molto simile a quella di Bittorrent. Utilizziamo una tecnologia veramente simile di TIT4TET che è l'algoritmo di Bittorrent però tra le automobili. Quest'idea è nata sostanzialmente così, un po' per gioco, queste cose nascono quasi sempre per gioco. Era il periodo in cui Bittorrent andava per la maggiore, in cui uno poteva scaricare più o meno di tutto e noi abbiamo pensato se io volessi farlo mentre vado a Las Vegas. Allora abbiamo pensato all'idea che ogni macchina prende un pezzetto diverso mentre passa magari sotto un access point e non si ferma e poi mentre vado a Las Vegas mi riscambio e alla fine tutte hanno quello che serve. Però la cosa interessante è che uno non dovrebbe mai fermare la sua fantasia, dovrebbe sempre lasciarla andare e vedere dove va. Lui dovrebbe trasformare tutte le automobili del mondo in dei sensori di inquinamento in modo che la gente capisca quando è in macchina quanto lo sta inquinando, perché secondo me è uno dei motivi per cui non riusciamo a cambiare stile di vita, non riusciamo a capire l'importanza del ridurre quanto emettiamo, quanto consumiamo e perché non ce ne rendiamo conto. Allora io voglio fare un sistema per cui man mano che le macchine vanno in giro raccolgono i dati sull'inquinamento, capiscono quant'è l'emissione e danno delle informazioni su come migliorare questa emissione. Questa è un'altra delle fantasie matte. Grazie. Grazie.